Eh, ma è una cosa inaudita. Signore, voi... Ciao, cara. Oh, prego, prego. Perché hai fatto questo? Perché volevo esserti vicina, papà. Non ho abbastanza preoccupazioni. Da chi sei stata aiutata? Ho fatto tutto da me. Beh, domani andremo via. E andremo via tutti. Ma papà... È finita. Non ci rimane altro da fare che andarcene.